Ederson, quanta soddisfazione segnare un gol che ha permesso all'Atalanta di aprire le marcature e poi insomma avete anche dilagato. Sì, sono felice di segnare, è importante, lo so che mi vuole difendere di più però questa stagione voglio aiutare ancora un po' offensivamente perché l'ultima stagione ho fatto bene difensivamente però poteva anche fare qualcosa di più per aiutare offensivamente la squadra e queste stagioni posso fare. Era un test importante questa partita contro il Monza anche perché voi eravate reduci dal knockout rimediato a Frosinone, insomma avete girato pagina. Sì, sì, sono così le partite, dobbiamo girare subito perché abbiamo tante partite anche in Europa League e Coppa Italia e quindi sì perdiamo una partita che non può succedere però abbiamo un'altra già subito. Questo è importante fare il risultato di squadra e vincere, questo è importante quando perdiamo una partita ritroviamo subito per vincere la prossima. Ederson, avete iniziato prendendo un po' le misure a questo Monza, siete andati in gol, l'avete sbloccata, poi non c'è più stata storia, l'impressione è che vi siate anche divertiti. Sì, sì, di inizio abbiamo iniziato un po' più per prendere la fiducia perché l'ultima partita abbiamo iniziato male e poi abbiamo visto che erano lì, tutti i compagni che avevano fiducia e poi abbiamo iniziato a giocare e quindi si è sbloccato tutto. E il pubblico vi ha abbracciato calorosamente come del resto fa sempre? Sì, come sempre, loro hanno la fiducia a noi anche come noi a loro e è così, è importante quando giochiamo a casa e abbiamo tanti tifosi che sono addosso a noi. Grazie. Grazie. Grazie.